Temptation Island ha battuto negli ascolti il programma NOS e poi sarebbe il programma che io ho definito come il gemello di Superquark che va in onda su Rai 1, il programma che si occupa di parlare di scienza e di tecnologia. E pensate che proprio NOS sarebbe stato sospeso dalla Rai per colpa dei bassi ascolti. Il pubblico però protesta a gran voce e avrebbe detto a gran voce ha vinto il trash, ha vinto la monnezza. L'avventura della conoscenza NOS è un programma infatti culturale nel quale Alberto Angela cerca di raccogliere e di mandare avanti tutta l'eredità che l'amato padre Piero, molto ormai diversi anni fa di tempo, è riuscito a fare con Superquark. Eppure però ci sarebbero bassi ascolti, infatti sembra che quasi tutti abbiano guardato Temptation Island. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina, una buona giornata.